buongiorno carissimi buona domenica sono super carico per il derby che veramente ne parleremo insieme veramente sperando di parlare di una roma degna di questo nome degna dei tifosi e degna di questa meravigliosa città tanto ragazzi io detesto quelle persone che vengono seguite ricevono messaggi ricevono commenti e non ringraziano mai scusate un po il collo incriccato detesto questo tipo di persone ed è per questo che io farò esattamente il contrario quindi veramente vi volevo ringraziare perché il canale sta crescendo in una maniera clamorosa in una diretta ogni video ogni giorno stanno aumentando in maniera esponenziale il numero di like e il numero di iscritti e vi ricordo che tutto questo è totalmente gratuito il like è un click è finito fatto ci vuole un secondo l'iscrizione iscritto fatto finito è tutto completamente gratuito e grazie ai vostri gesti avrete me una persona che ci mette la faccia nome e cognome nessun nickname nessuna stronzata ma solamente massima passione sincerità trasparenza onestà intellettuale e professionalità quindi io non do per scontato nulla nella vita ogni giorno in più un dono di dio e quindi vi ringrazio veramente per tutto quello che state facendo per me mi tenete compagnia ed è un piacere un onore tenervi compagnia in maniera informata allora tanto grazie per questa scusate per questa premessa grazie ancora chi mi segue sa che nelle ultime ore come sempre postando nome e cognome della fonte perché io sono una persona seria e come vi ho detto fonti soprattutto straniere perché vi dico la verità ho viaggiato tanto e degli italiani mi fido veramente poco c'è un qualcosa per un calciatore il calciatore in questione è Marcao avete letto la notizia sul mio facebook sul mio twitter sul mio instagram quindi ora ve la voglio spiegare a voce qui su youtube perché ho visto che ieri sia su facebook che su instagram quando ho dato questa notizia o meglio quando ho riportato la notizia che è stata data da un mio collega verificandola che è diverso quindi non mi voglio appropriare di una cosa che non è mia ma ho semplicemente riportato un ottimo lavoro di un collega questo ha creato un grandissimo dibattito basta che andate su instagram addirittura sono accorsi in massa anche i turchi perché vi devo dire la verità questo giocatore in turchia è ritenuto un fenomeno nel suo ruolo e quindi c'è grande animosità c'è grande partecipazione un po' come qui a roma quando danno una notizia su zaniolo pure se lo dà un media straniero noi accorriamo in massa per commentare e per dire la nostra e per esternare il nostro disappunto perché magari vogliamo che resta qui ripeto il calciatore in questione marcao questo collega turco mi ha spiegato che la roma starebbe trattandolo da diverso tempo e sarebbe giunta ad avanzare un'offerta di 18 milioni complessivi tra rateizzazioni riscatti e quant'altro però però questo mio collega turco che che insomma non è uno sprovveduto c'ha più di 100 100 mila 110 mila ora non ricordo esattamente il nome non lo pronuncio perché è veramente complicato e non mi permetterei mai di storpiarlo ma ripeto se andate su instagram o facebook trovate il suo nome non stiamo nascondendo niente e trovate anche il post originale sulla sua pagina instagram e su quel post originale troverete 200 mila commenti oltre che like a dimostrazione che questo non sia l'ultimo arrivato dei boschi ma una persona molto autorevole molto seguita in turchia perché dice le cose fatte bene per esempio nella trattativa per diawara che non è andata in porto ma che è esistita perché poi voi fate confusione anche su questo non è che se non va in porto non è mai esistita non è vero nulla esistite come e non si è concretizzata e io grazie al suo apporto ok sono riuscito a darvi dettagli sui stipendi che venivano offerti sull'offerta e guardate che di cifre si sbaglia molto e si inventa tantissimo mentre io sono riuscito a darvelo in maniera esatta grazie a questo mio collega è veramente in gamba ora è anche un influencer perché per la sua autorevolezza naturalmente con il passato del tempo ha visto il suo numero di followers crescere in maniera esponenziale e sono followers veri perché poi quando voi vedete una pagina con 300 mila followers e poi una tristezza i post con 10 like un commento sono finti sono comprati non sono come i miei come i suoi che ce n'ha molti di più o sotto ogni mio post ci stanno 60 70 a volte 100 a volte 200 commenti sono veri sono siete voi siete esseri umani non siete robot siete persone che partecipano attivamente e queste cose te le costruisci solamente con la serietà mettendoci la faccia con l'autorevolezza quindi la notizia è questa la roma effettivamente questo giocatore interessa poi a dimostrazione anche di come qua in italia sparano tanti nomi e poi alla fine però le trattative vere sono quelle che qua nessuno riesce a scoprire capite questo è importante lo sottolineo però dato che questo giocatore sta facendo una stagione pazzesca anche contro il barcellona ha giocato due partite incredibili e nelle ultime otto gare ha vinto per sette volte il migliore in campo pur non essendo un attaccante ragazzi è più facile non essere un attaccante segni sette su otto è stato il migliore in campo un po' come a volte avviene da noi smalling che è spesso il migliore in campo quindi questa trattativa esiste però l'aggiornamento importante è che probabilmente anzi sicuramente almeno così mi hanno detto non bastano 18 milioni non bastano 18 milioni quindi se la roma vuole veramente questo giocatore deve aumentare l'offerta e qui potremmo fare insieme delle riflessioni alzare l'offerta per marcao o magari buttandosi 25 30 milioni per un altro profilo tipo bremer e perché no provare a strappare magari bottamana dal milan sono tutte riflessioni che possiamo fare dato che riguardano il reparto quindi il reparto perché lo so che sono giocatori con caratteristiche diverse ma riguardano il reparto difensivo fermo restando che la roma ha bisogno anche di un mediano di un regista di qualcosa in attacco c'è tanto da fare un esterno a destra c'è tanto da fare quindi la nostra società dovrà decidere per chi spendere 30 40 50 milioni e per chi invece investire con parametri zero o con scommesse perché in un mercato completo c'è tutto c'è il colpo che paghi tanto c'è il parametro zero dove noi stiamo facendo schifo ma molto importante invece per gente come masraoui camarà grilish c'è tanta roba parametro zero e poi anche il giovane va scoperto perché se il buyer pure si permette di scoprire musiala pure tu devi fare talent scout se fa scouting una società che può comprare 8 persone a 100 milioni a maggior ragione lo devi fare tu che non hai queste potenzialità economiche grazie a chi ha visto il video fino in fondo grazie a chi mi segue a chi mette like a chi si iscrive al canale tutto gratuitamente va bene questo è stato un grande contenuto e spero che l'abbiate apprezzato un abbraccio